In questa umiltà risplende la grandezza del Beato Paolo VI che, mentre si profilava una società secolarizzata e ostile, ha saputo condurre con saggezza lungimirante e talvolta in solitudine il timore della barca di Pietro senza perdere mai la gioia e la fiducia del Signore. Papa Francesco ha proclamato Beato Paolo VI e ha espresso gratitudine per questo istancabile Apostolo, grande timoniere del Concilio e istitutore del Sinodo dei Vescovi, strumento per scrutare attentamente i segni dei tempi e cercare di adattare le vie e i metodi alle mutate condizioni della società. Immediato il riferimento all'assise sulla famiglia dei giorni scorsi, una grande esperienza ha precisato il Pontefice nella quale abbiamo vissuto la collegialità e abbiamo sentito la forza dello Spirito Santo che guida e rinnova sempre la Chiesa. Pensando anche al Sinodo Ordinario dei Vescovi del 2015, Papa Francesco ha poi invitato tutti a non temere le novità di Dio che continuamente ci sorprende, aprendoci e conducendoci a vie impensate. Qui sta la nostra speranza, perché la speranza in Dio non è quindi una fuga della realtà, non è un allibi, è restituire operosamente a Dio quello che gli appartiene. Grazie. 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 Grazie.